Piatto? Wow! Madonna che pazzesca! 5 mila euro al mese! Se lo vede loro di farmi cambiare il vestire! Quando mi dice perché tutti ostini a voler fare l'architetto! Un hobby carissimo! Perché tutti ostini a voler fare l'architetto! Mi sono girate le balle! Benvenuti alla locanda Letizia! La locanda Letizia! La locanda Letizia! La locanda Letizia! La locanda Letizia! Com'è? Buona! Buona? Buonissimo! Ma Maria come è? La più buona che c'è! Si! No no! No no! Ma io è stata quella bianca! No! Hai notato la mossa? No no! Ma spiegami! È danke di pulso! È roba maschia! È roba maschia! È roba maschia! Amore! C'è lì un rubinetto! C'è il vino! No no! Rappiano perché ti fai un mostro! Posso chiedersi? Non mi dà quel bianco? No no! No no! Bianca! Guarda! Bianca con olio e rosso! Bianca con olio e rosso! Ecco la sicura! E questa con rosso! Bianca con olio e rosso! Bianca con olio e rosso! Non sei verde! Vai! Ma questa è l'impiego! No! Vieni! È un peccato! Papà aspettalo! Questo è video! Ah video! Sì sì! Ok! L'hai avuto la tua pizza? Sì! Vieni! Fate le bruschette! Vieni! Ah bello va il rosso! No no! No no! Allora! Eccomi! Questa è bianca! Cigoria! Cigoria! Chi le vuole questa cosa? Cigoria! 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 Questo è... Il gesto calmo e maschio direi! Cigoria! 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 Allora! Potremmo di aiutare... Com'era così Alessandra? Sì! Maia! Maia! Io sto imparando! Maia! 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 Maia!